A Spazio Cultura e Tempo di Poesia, grazie in questo caso alla collaborazione, alla sinergia, come sapete quanto noi teniamo noi alle cimprocità, con A.D. Communication di Deborah Annolino, presenteremo questo libro di poesie, tutto uguale a prima. È un poeta emergente, rigentino, che noi accogliamo, abbiamo già letto le sue poesie, devo dirvi che sono veramente le poesie di un grandissimo spessore. E oggi pomeriggio, proprio a Spazio Cultura, alle ore 17.30, vi aspettiamo numerosi, perché, voi sapete, a Spazio Cultura facciamo sempre degli incontri sulla poesia, molto partecipati, tra l'altro si crea anche un dialogo poetico con il poeta e tutti quelli che vorranno ovviamente partecipare. Perché oggi sarà presente l'autore? Sì, oggi sarà presente ovviamente Federico Licalzi, viene direttamente da appunto un imprenditore, e quindi è molto impegnato, e anche io personalmente lo conoscerò fisicamente più tardi, però ho già conosciuto le sue poesie e quindi sarà veramente un grande onore poterlo ospitare. Una raccolta di poesie, ma cosa ci racconta? Il libro di Federico Licalzi è un libro di poesia appunto che racconta l'amore in tutte le sue sfaccettature, ma anche temi come la nostalgia, il rimpianto, l'infanzia, quindi temi che sono molto cari all'autore e che sono assolutamente accessibili a tutti coloro che parteciperanno appunto all'evento di presentazione presso Spazio Cultura Libreria Maccaione, che ringrazio perché ci ha dato la possibilità di valorizzare la poesia. E oggi la poesia ha un ruolo importante e non va emarginato, perché rappresenta veramente la condizione umana e quindi la persona che vuole riflettere, che vuole dubitare, che vuole continuare a pensare in maniera critica. A proposito di poesia, sembra si stia ritrovando la voglia di leggere poesia. E' proprio così, ci danno conferma ultimi recenti dati Istat, quindi la poesia torna nuovamente in auge, insomma risulta essere più valorizzata anche grazie a librai e a editori che continuano a investire in giovani poeti come Federico Licalzi, che nella poesia riversa sentimenti, emozioni, quindi è importante dare spazio alla voce poetica di chi sente di farlo. Ma cosa, diciamo, vuole significare questo tipo di libro, questa raccolta di poesie? Qual è il messaggio? Allora, il libro si intitola Tutto uguale a prima. In realtà è un titolo provocatorio, in quanto sembra che tutto sia uguale, quindi che non cambi mai, ma la provocazione sta proprio nel fatto di far cambiare invece chi, o di provare a cambiare chi legge questo libro perché ci si sente arricchiti dopo la lettura o comunque si prova ad abbattere qualche barriera, qualche limite che ci costringe o che soffoca la nostra autenticità, quindi spazio appunto ai giovani poeti come Federico Licalzi che credono nel potere salvifico della poesia.